Emma Marrone e Elisa Emma Marrone e Elisa, gossip e frottole sparate sul web dai settimanali Gossip Le cantanti Emma Marrone ed Elisa decidono di ribellarsi alle frottole raccontate dai settimanali. Gossip! Le due cantanti italiane Emma Marrone ed Elisa hanno deciso di mettere fine personalmente alle caxxate che circolavano in merito ad un presunto litigio. Emma ed Elisa sono entrambe affermate professionalmente e sebbene nel programma televisivo di Maria De Filippi sono schierate una contro laltra, ciò non accade nella realtà e dietro le quinte. Il loro rapporto di amicizia è più forte che mai e le due cantanti si sostengono in modo molto limpido e senza nascondere nessun velo di gelosia e di competizione. Molto diverse tra di loro ma molto unite, hanno deciso di reagire alla bufala che circolava da giorni. Gossip, Elisa ha dato avvio a un tour per festeggiare i suoi 20 anni di carriera, ed in uno dei tre concerti organizzati allarena di Verona cera anche Emma Marrone. . Proprio in tale occasione, secondo Il Settimanale Oggi ci sarebbe stato un litigio tra le due cantanti dietro le quinte. . Il presunto scontro è stata la preoccupazione dei fan. Ovviamente il fa che è volato sul web alla velocità della luce. Le due cantanti hanno dovuto smentire personalmente, ognuna attraverso i propri social il fa che è fatto circolare dal noto settimanale. . Gossip, Emma ed Elisa criticano le riviste. . Gossip. E la cantante Emma Marrone a rassicurare per prima i suoi fan e a smentire le false voci che circolavano. . . La bella bionda tramite Twitter ha espresso in modo conciso la sua opinione a riguardo, leggo articoli di un litigio tra me e mia sorella Elisa. Fate ridere i polli e per essere eleganti. E siete di cattivo esempio. . . Emma Marrone dimostra anche in questa circostanza la sua determinazione e grinta ad eliminare ogni pettegolezzo privo di veridicità. Poco dopo anche Elisa rassicura i suoi fan e riprende ciò che era stato affermato dalla sua collega. . Gossip smentita del litigio tra Emma Marrone ed Elisa. . Gossip dopo la smentita di Emma Marrone anche Elisa decide di smentire attraverso i social le voci false che circolavano. La loro amicizia quindi continua e sembra non possa terminare per un semplice litigio avvenuto per motivi futili. . . I fan possono stare tranquilli e tirare un sospiro di sollievo poiché vedremo ancora per molto le due cantanti esibirsi insieme e regalarci emozioni degne del loro talento. . 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